Che effetto hanno gli ormoni sui brufoli? Credo che chi ha, ad esempio, tanti brufoli può prendere per regolare gli ormoni. Mi sembra un effetto positivo, sì, vengono spesso dati per l'acne. Che effetto hanno gli ormoni sulla crescita dei peli superflui? Non so. Gli ormoni possono essere grandi amici della bellezza delle donne. Naturalmente parlo di ormoni sessuali, parlo di pillola e parlo in particolare di uno dei due componenti della pillola. Se noi consideriamo qualsiasi contraccettivo urmana, il pillola, cerotto o anello, dobbiamo considerare che sono presenti due ormoni, che possiamo considerare la moglie e il marito. La moglie è l'estrogeno, quasi sempre un estrogeno sintetico, etinillestradiolo. Il marito, invece, può essere molto diverso, nel senso che abbiamo diversi progestinici. A seconda della combinazione della moglie con quel tal marito, otteniamo degli effetti biologici diversi sul nostro corpo. In particolare, se vogliamo combattere l'acne, ridurla, azzerarla possibilmente e tornare a avere un bel faccino, dobbiamo prendere i mariti che vanno a ridurre il livello di ormoni maschili, che sono quelli che fanno produrre più sebo, che poi si infette dall'uovo, appunto, alla follicolite, ai brufoli, ma anche stimolano il follicolo pilifero e ci danno i peli in più, che definiamo proprio irsutismo, quando noi abbiamo una proliferazione di peli in sedi tipicamente maschili, non femminili, per esempio, sul mento, per esempio, sul labbro superiore, intorno all'areola, o sulla parte superiore dell'addome, verso l'ombelico. Allora, dobbiamo scegliere, quindi, la combinazione moglie-marito che sia effettivamente terapeutica, quindi curativa, nei confronti di che cosa? Di un disturbo della produzione degli ormoni maschili. Devo fare un passettino indietro. Quando compare l'acne? L'acne compare quando il nostro ovaio, oppure in associazione anche il surrene, producono una quantità di ormoni maschili superiore al giusto, superiore alla normalità. Quali sono le donne più a rischio di avere un eccesso di ormoni maschili? Sono le donne che soffrono della cosiddetta sindrome da policistosi ovarica, una sindrome che è caratterizzata dalla difficoltà dell'ovaio a ovulare, dalla tendenza a produrre più follicoli e dal fatto che al centro dell'ovaio ci sono delle cellule che producono ormoni maschili, che vengono iperstimolate, sono cellule di Leydig, e quindi la donna ha una produzione di ormoni maschili superiore alla media. Devo però ricordare che questo ovaio non è che funziona male di suo. Funziona in maniera più irregolare, disfunzionale, come ne diciamo, soprattutto nelle donne sovrappeso. E allora qui introduciamo un concetto molto importante. Più la ragazza aumenta di peso, meno fa sport, più va incontro a un disturbo che è la cosiddetta aumento della resistenza periferica dell'insulina, cioè un disturbo metabolico. In termini semplici utilizza peggio gli zuccheri e questa ragazza ha un ovaio che andrà sempre peggio. Per cui il primo consiglio che io do sempre ai miei pazienti sono gli stili di vita. Una dieta appropriata, pochissimi zuccheri, meglio zero glucosio, pochissimi o zero lieviti, preferire frutta, verdura, pesce, carne, cereali, legumi molto bene, ma in piccole quantità, quindi ridurre l'introito calorico complessivo in maniera bilanciata, facendosi seguire magari un nutrizionista, e sempre movimento fisico quotidiano, anche il camminare velocemente. Perché questo? Perché se noi camminiamo velocemente, ottimizziamo l'utilizzo periferico dell'insulina, ma andiamo anche ad aiutare l'ovaio a lavorare meglio. Dormite il giusto numero di ore. Se una ragazza dorme meno di otto ore o addirittura meno di sette, che cosa succede? Non solo è stanca, stanchissima, ma aumenta la produzione di un neuroormone, una sostanza che si chiama grelina, e la grelina aumenta l'appetito per i cibi grassi e dolci, e quindi diventa molto più faticoso seguire una dieta. Di converso, chi fa movimento fisico ha una maggiore capacità di controllare l'impulso per il cibo. Quindi non abbiamo solo il movimento fisico che ci dà un vantaggio perché brucia calorie, questa è una lettura minimalista, ma in realtà il fare movimento fisico e il dormire un numero di ore appropriato ci consente di fare meglio le diete, di seguirli in maniera più rigorosa e quindi di ottimizzare poi mantenere un peso corporeo adeguato, ma anche un fisico complessivamente più femminile, più carino e più sano. Detto questo, andiamo anche ad aiutare l'ovaio a lavorare meglio. Ma se poi questo ovaio continua a produrre troppi ormoni, ecco che ci viene in aiuto il contraccettivo ormonale col marito giusto, ossia che sia antiandrogeno. Qual è la famiglia degli antiandrogeni? Noi abbiamo una pillola più antica che contiene il ciproterone acetato, che è una molecola molto potente per inibire un marito, quindi molto potente per bloccare i brufoli, ma anche un livello di estrogeno un pochino tonico. Quindi è una pillola che va bene per le ragazze piuttosto robuste, certamente non per le minute o mingerline, perché dobbiamo sempre fare la taglia su misura. Un altro tipo di pillola che contiene un marito utile per combattere l'acne è la grande famiglia delle pillole al drospirenone. Questa sostanza, che deriva in realtà da un diuretico, ci aiuta a contenere un po' il peso, ma soprattutto a combattere l'acne. Se però soffriamo di disturbi del comportamento alimentare, abbiamo problemi di vario genere perché abbiamo intolleranze o sindrome del colon irritabile, o abbiamo una celiachia o un'intolleranza al lattosio, tutte situazioni in cui le pillole non ci vanno bene per niente, anche se hanno un marito perfetto, ce ne sono altre ancora naturalmente, dobbiamo ricorrere ad altri metodi. Tra gli altri due metodi che ci restano, il cerotto e l'anello, quale ci va meglio per combattere l'acne? Il cerotto, perché il marito presente nel cerotto, la norelgestromina, ha quest'azione fantastica contro gli androgeni a livello del follicolo pilifero, a livello della ghiandola sebacea e quindi ci consente che cosa? Una perfetta contraccezione perché bypassa tutti i problemi gastrointestinali, ci dà livelli costanti nel sangue e ha il grande pregio di unire anche un'azione cosmetica a livello del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea, con un plus molto interessante che gli altri mariti non ci danno. Gli altri progestini ci intendo. Ossia di mantenere una normale idratazione cutanea, come è stato dimostrato dal professor Sator, che è un dermatologo, che ha pubblicato un articolo estremamente interessante proprio su Dermatology, che è un po' la Bibbia dei dermatologi. Ecco che allora abbiamo dei dati scientifici che ci fanno capire che cosa? Che innanzitutto dobbiamo scegliere la combinazione giusta di estrogeno col marito che vada a ridurre l'effetto degli androgeni prodotti in eccesso nel corpo della donna. Se la donna non ha disturbi di tipo alimentare o intolleranze o altro, ci sono delle pillole molto efficaci su questo, se o per sua scelta, perché preferisce proprio personalmente un metodo settimanale e vuole il cerotto, o perché ha problemi che controindicano la via orale, in questo caso il cerotto ha dentro un marito, la noregistromina, che è molto efficace nel combattere proprio l'acchene e i peli superflui, mantenendo una buona idratazione.